e si adesso si è un po arrotondato ho segnato la porta prima in ingresso però penso che con una lisciata vada a posto anche qua se questo si può far vedere la traccia mi ha rubato la mia traccia la mia l'aveva fatta di più esterna all'upto spero che abbia mandato l'ok ma qua non deve essere passato ancora nessuno faccio delle linee bravo sto qua ercole di progelato bravo del piedino un po' scuso vai gicca guarda è stato bene il vostro 1 a 13 90 buono 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 Grazie a tutti.